Il modello Riace secondo me è un modello che ci rende ancora più umani, che non è un modello tipo come altri tanti in giro per l'Italia, che prendono i soldi dallo Stato e che questi soldi non vengono spessi. Nuru, mediatore culturale da tempo residente alla Mezzia Terme, è tra coloro che hanno deciso di sfidare la pioggia e di partecipare al presidio di solidarietà al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, al grido di noi vogliamo restare umani. E in tanti si sono riversati sull'isola pedonale del Corso, proprio di fronte alla sede del Movimento 5 Stelle, per dare un contributo plastico alla battaglia che sta vivendo il primo cittadino da ieri all'alba ai domiciliari. Siamo qui innanzitutto per dimostrare la nostra solidarietà nei confronti di una persona che fondamentalmente non ha compiuto reati penali, se si vede, tutta più può aver compiuto reati amministrativi. Presente è anche l'ex sindaco Gianni Speranza, che non ha rilasciato dichiarazioni e intanto c'è chi è ancora incredulo su quanto è accaduto. Mimmo Lucano è un esempio non solo di accoglienza, di onestà, di fare il sindaco interessandosi della propria comunità, dove per comunità si intende la comunità di persone, non comunità soltanto di nativi. Non è un modo di dire che hanno arrestato l'umanità. È un modello esemplare, quindi tutti devono adottare questo modello per poter gestire meglio il flusso dell'immigrazione. Tiziano Bagnato per la Cidius24.